Buongiorno a tutti, direi di iniziare questa giornata, questo appuntamento in cui andremo ad evidenziare uno dei servizi fondamentali dell'ecosistema fiorentino dell'innovazione che è quello legato alla tutela della proprietà intellettuale, che tutela le nostre nuove imprese, le nostre start up per quanto riguarda i loro marchi e per quanto riguarda i loro brevetti. Sono servizi che vengono erogati normalmente in camera di conmezzo e per evidenziare la bontà di questi servizi ci avverremo oggi di un bellissimo case history che sarà poi introdotto nel proseguo della mattinata. Inizierei con i saluti di rito dell'iniziativa passando subito la parola all'assessora Cecilia del Re, che ringrazio. Salve, buongiorno a tutti, bentrovati. Ecco, ringrazio innanzitutto la Camera di Commercio che ci ospita oggi virtualmente per questa iniziativa che è promossa però da tutti i partner dell'ecosistema fiorentino dell'innovazione dalla rete makenextinclorence.org perché, ecco, come Luta Rui Bechini ha già anticipato, oggi vogliamo parlare dei servizi che la rete offre a tutela della proprietà intellettuale e dell'ingegno raccontando poi anche una bellissima novità di cui come rete siamo anche un po' orgogliosi che è il riconoscimento del brevetto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico a una start-up dell'ecosistema, Kinoa, e oggi qua abbiamo l'Aco Cecconi, ecco, che ci racconterà meglio la propria storia e che è peraltro appunto un caso particolare anche all'interno del nostro ecosistema perché è una start-up che nasce al Murate Idea Park e che poi, ecco, realizza un progetto che diventa uno dei progetti della città di Firenze per un turismo accessibile. Quindi oltre a, diciamo, raccontare un case history davvero importante su un tema fondamentale come quello della tutela appunto della proprietà intellettuale, dell'ingegno, delle opere dell'ingegno che diventa fondamentale da presidiare per, diciamo, il proprio, per la propria impresa, ma anche appunto per la tutela, ecco, dell'idea che viene partorita e quindi anche, come dire, per la tutela di un tessuto imprenditoriale del nostro territorio. Dall'altra, ecco, vogliamo anche raccontare questo caso perché è significativo di come il sostegno che la rete portare alle start-up diventa importante ovviamente per la nuova start-up che nasce e che cresce e per quindi i servizi che può offrire, ma anche in talunitasi proprio per dei progetti con degli svolti sociali, pubblici, importanti come quello che appunto Chimap, il prodotto di Chinoa, ha messo in campo in questi anni. Infatti, grazie a Chinoa è stato realizzato Chimap, un navigatore che ha permesso di mappare le barriere architettoniche che abbiamo in città ed ecco che questo progetto, questa app, e i itinerari accessibili che sono stati realizzati da Chinoa insieme alla città di Crenza, all'ufficio del turismo e che sono adesso a tutti veramente accessibili, ci hanno permesso anche di ottenere quel riconoscimento da parte della Commissione Europea di città accessibile nel 2021. L'unica città italiana, peraltro, a ottenere questo riconoscimento. Su questo fronte siamo infatti impegnati con più azioni, ma appunto il progetto con Chimap per la sua innovazione e per la sua importanza ha senza dubbio contribuito a dare alla nostra città questo riconoscimento e quindi soprattutto ad essere una città più accogliente e accessibile per le persone diversamente abili. Voglio dunque fare i miei complimenti a tutto il team di Chinoa, ma anche a tutto lo staff della Camera di Commercio e a tutti coloro, ecco che su questo fronte hanno collaborato, l'ufficio del turismo della città di Firenze e tutti i partner dell'ecosistema per l'innovazione, come preso il murato in via a parte, dove appunto la start-up ha preso il volo perché questo lavoro di squadra e di sinergia, come più volte ci siamo detti, risulta appunto come questo che esiste e dimostra vincente poi per tutto l'ecosistema. Grazie a tutti e a Maiora. Grazie Assessora per queste belle parole di un ecosistema che sta crescendo e lascerei a questo punto le parole al Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di Commercio di Firenze. Grazie Luca, grazie Cecilia, veramente hai colto il tema, quando si riesce a fare squadra e qui squadra è stata fatta, Comune, Camera di Commercio, tutti i soggetti che fanno parte dell'ecosistema fiorentino, i risultati si vedono. La testimonianza straordinaria di Kinoa che ha brevettato questa key map straordinaria con servizi gratuiti messi a disposizione dei soggetti dell'ecosistema ne è una testimonianza veramente plastica. Io vorrei anche ricordare che testimonia anche la bontà di Firenze come sede di eccellenza per le start-up anche i dati che noi deriviamo dal registro delle imprese. Noi abbiamo registrato ovviamente nel 2020 una stasi assoluta nell'ancita delle nuove imprese, una stasi assoluta per quanto riguarda le start-up giovanili. Finalmente nel 2021 abbiamo registrato una crescita importante di quelle che sono le imprese giovanili, circa 1.500 iscrizioni, nuove iscrizioni under 35 in Camera di Commercio a fronte di solo 500 cessazioni, quindi un saldo straordinariamente positivo per i giovani che decidono di fare impresa sotto i 35 anni. abbiamo anche segmentato i filoni che i giovani scelgono per direzionare la propria attività imprenditoriale e sono i filoni del futuro, dalla green economy al digitale, alla proiezione internazionale dell'attività di impresa. Quindi una visione e una strategia che i giovani colgono, colgono sui settori più profittevoli in dimensione futura. Noi come dicevamo prima assistiamo tutta questa, come dire, questa gamma di start-up giovanili con una serie di servizi gratuiti, dal servizio Nuove Imprese che la Camera di Commercio mette gratuitamente a disposizione con Anna Maria Vitale a favore delle imprese giovanili, al servizio Patlib di consulenza brevettuale, di consulenza sulla proprietà industriale, al PID, al sistema ampio dell'ecosistema fiorentino, quindi con Murata Idea Park, con Anna Bianca, una gamma di servizi che direi quasi unica perlomeno nel panorama toscano e direi del centro Italia. Una gamma di servizi a titolo assolutamente gratuito che numeri alla mano, ripeto ancora ripartono le imprese giovanili, ci conforta nella scelta. Vorrei anche ricordare che è bene partire con il piede giusto quando si fa impresa soprattutto a cura di giovani. Il grande problema delle imprese giovanili è il terzo anno. Al terzo anno purtroppo ancora oggi arrivano soltanto sei su dieci imprese che partono, il 40% delle imprese purtroppo si perde per strada, quindi è bene partire con un business plan ben chiaro, con un settore emergente e profittevole, quindi ecco l'importanza dei servizi che noi mettiamo a disposizione. Aiutano l'aspirante imprenditore a meglio direzionare la propria idea, a meglio passare dall'idea alla impresa vera e propria. Il caso di Lapo Cecconi di Chinoa è emblematico, un'impresa con un'idea brillante, con un imprenditore brillante che è riuscito anche grazie ai servizi alla partenza ottimale a realizzare un'ottima idea imprenditoriale. Quindi veramente un augurio a tutti, uno in bocca al lupo, noi ci siamo, siamo a vostra disposizione. Grazie. Grazie segretario e fa piacere insomma in questo periodo sentire anche delle buone notizie insomma confortati dai numeri che ci ha presentato oggi. Prima di passare la parola agli interventi tecnici mi piacerebbe anche ricordare il nuovo servizio che è stato insomma che è messo a disposizione dalla rete dall'ecosistema fiorentino che è lo sportello virtuale. Attraverso il portale che caratterizza l'ecosistema fiorentino che ricordo essere www.makenextinflorence.org si può prendere gratuitamente un appuntamento per un primo orientamento e non è necessario essere impresa, basta anche avere un'idea imprenditoriale, parlando con un referente dell'ecosistema si viene indirizzati verso quel soggetto che meglio può assistere al quesito che viene posto. A questo punto direi di iniziare con gli interventi tecnici e lascio la parola a Carlo Badiali che ci presenterà i servizi del centro Patrip. Buongiorno a tutti, grazie Luca, mio compito appunto è quello di fare una panoramica di quelli che sono i servizi nell'ambito di proprietà industriale e innovazione che l'ecosistema per l'innovazione offre attraverso la Camera di Commercio. Quindi spero si veda la presentazione, benissimo. La breve panoramica naturalmente non può prescindere da una slide iniziale di presentazione dell'ecosistema, questo per dare l'idea della distribuzione di una parte, tra l'altro nemmeno tutto, dell'ecosistema che trova l'azienda che vuole investire in Firenze in idee attraverso una serie di attori che sul territorio la possono assistere. Sono tanti punti di una rete interconnessa tra di loro che in grado di poter, a seconda delle esigenze, soddisfare la richiesta dell'azienda e della startup in questo caso. Quindi abbiamo naturalmente la Camera di Commercio con i servizi Patrib e PID, i due incubatori e acceleratori d'impresa MIP e Nana Bianca, il Comune di Firenze, l'Università degli Studi, Fondazione Ricerca e Innovazione, Student Hotel in Patab, Regione Toscana e altri partner che via via si stanno raggiungendo in questo ecosistema che sta diventando un qualcosa di sempre più completo a disposizione delle aziende. Entriamo nel vivo del Patrib. Presso la Camera di Commercio appunto esiste un centro Patrib che fa parte di una rete europea di più di 300 Patrib. Patrib è un acronimo che sta per Patent Libraries e la sede di questa rete si trova esattamente alla sede dell'Ufficio Brevetti Europeo a Monaco di Baviera. L'Ufficio Brevetti Europeo ha anche altre due sedi dislocate rispettivamente all'AIA e a Vienna però il centro di tutto nevralgico è proprio vicino all'Ufficio Brevetti Marchi di Monaco e è l'Ufficio Brevetti Europeo. Che cosa rilascia il Patrib? Una serie di informazioni di secondo livello quindi molto più se vogliamo approfondito una vera e propria assistenza all'azienda declinata sotto vari punti di vista dalla ricerca di anteriorità e vedremo oggi che è anche uno dei servizi messi a disposizione dal Patrib fiorentino ha dei servizi ancora più approfonditi di assistenza, di supporto tecnologico e di trasferimento tecnologico nonché tutta una serie di informazioni sulla fattibilità dell'investimento in ambito brevettuale. Abbiamo una rete fatta di più di 300 Patrib europei, sono spesso ospitati da istituzioni. In Italia li troviamo soprattutto presso le Camere di Commercio ma in altri paesi sono localizzati presso le università. Un esempio particolare è quello dell'Inghilterra, qui ragioniamo di un'Europa allargata non ci limitiamo alla semplice Unione Europea, quindi il Regno Unito che ha la rete Patrib presso le Public Libraries quindi la British Library che è un'istituzione che conosciamo bene e che naturalmente offre fortissimamente un servizio più di tanti altri di quelli che offre il Patrib che sono naturalmente le ricerche di anteriorità. In Italia ce ne sono 15, Firenze è uno di questi, esiste poi una rete, non voglio definire minore ma con un livello di approfondimento nell'assistenza meno ampio che è fornita dai PIP dove PIP è un altro acronimo che sta per Patent Information Point. Che cosa fa il centro Patrib della Camera di Commercio? Perché il bello della rete innanzitutto come l'ecosistema insegna, l'ecosistema fiorentino è quello di mettere a patrimonio di tutti le informazioni e i servizi che vengono forniti e di conseguenza essere in una rete di Patrib a livello italiano europeo ci consente di avere una serie di informazioni che altrimenti come Firenze non riusciremo mai a raggiungere ad avere. Questi sono però i servizi che tipicamente mette a disposizione il centro Patrib della Camera di Commercio. Innanzitutto il servizio di primo orientamento e in questo dobbiamo assolutamente far riferimento alla convenzione con i consulenti della proprietà industriale. Ogni lunedì in particolare in Camera di Commercio c'è la possibilità per chi vuole di avere un approfondimento sulla propria idea, capire come è tutelabile e avere delle utilissime prime informazioni di frontiera per poi proseguire il cammino brevettuale o naturalmente di protezione marchio o brand dell'azienda. C'è poi la ricerca di identità che l'ufficio rilascia direttamente mentre per similitudine la ricerca viene svolta direttamente dai consulenti della proprietà industriale che offrono naturalmente un supporto fondamentale e imprescindibile ai servizi del centro. Dopodiché c'è anche il rilascio di report di anteriorità in materia di brevetti su progetti selezionati e qui sarà l'ingegnero Rottini che porterà avanti un intervento successivo al mio che vi spiegherà nella pratica in cosa consiste questo servizio anche qui di grande utilità per l'azienda nello studio di fattibilità del deposito di un brevetto. C'è poi anche il tutoraggio di imprese e il corretto uso di strumenti informatici e questo è sempre l'università degli studi attraverso una convenzione siglata con la Camera di Commercio in particolare la Facoltà di Ingegneria e il centro Xavri dell'università che sempre attraverso l'ingegnero Rottini che vi spiegherà anche in questo caso meglio come funziona questo tutoraggio alle imprese consente di sostanzialmente dare questi strumenti fondamentali in mano alle imprese per poterli utilizzare per conto proprio e per fare anche delle primissime ricerche brevettuali basilari che però sono utili per poter portare avanti poi il percorso di deposito. In ultimo, ma non di portanza come si suol dire organizziamo anche seminari formativi e divulgativi naturalmente in collaborazione con tutti i partner e abbiamo trovato più utile in particolare negli ultimi tempi non organizzare to-cure i seminari di proprietà industriale ma inserire questo importantissimo elemento fondamentale all'interno di seminari che per esempio organizziamo o webinar con il punto impresa digitale su materie relative all'impresa 4.0 e ai brand che caratterizzano per esempio tutto l'ambito del web marketing dove sapere come si deposita un marchio come è opportuno farlo diventa uno strumento fondamentale per affrontare tutto il percorso. Ho fatto cenno a questa figura del consulente di proprietà industriale perché è per noi assolutamente imprescindibile e fondamentale per portare avanti tutto il servizio di primo orientamento e anche il servizio di formazione attraverso il rilascio di interventi in webinar e seminari all'interno delle nostre iniziative dell'ecosistema. È importante appunto capire chi sono questi professionisti perché sono accreditati e iscritti a un ordine dopo aver conseguito un titolo universitario aver seguito un tirocino e superato un esame di Stato. È nostro compito anche come Camera di Commercio portare a conoscenza di tutte le imprese le peculiarità di questa figura perché spesso la tendenza è di affidarsi a professionisti non specializzati in quest'ambito portando anche in qualche caso dei danni all'azienda quando invece è un consulente che segue in prima persona e perché ha una specializzazione in quest'ambito tutta la materia che è proprio una sezione che è a parte di tutta l'ambito processuale è fondamentale ad avere e attingere a questo tipo di informazione quindi possono depositare domande in proprietà industriale per conto terzi quindi accanto ai depositi che vengono fatti presso gli uffici Marche Brevetti sono gli stessi consulenti che possono portare avanti questo tipo di deposito in particolar modo per i brevetti dove scrivere un brevetto è tutt'altro che banale consigliamo sempre alle aziende di rivolgersi a un consulente prima di intraprendere questo cammino rappresentano i titolari i titoli di proprietà industriale davanti all'ufficio Brevetti Marche nel caso di qualsiasi contestazione e anche davanti alla commissione di corsi quindi è importante capire la figura professionale del consulente proprietà industriale passo poi perché è strettamente connesso al centro Patrib a parlare del punto impresa digitale anche qui sempre in relazione all'ecosistema per l'innovazione è un servizio ormai attivo dal 2018 formato da 5 digital promoter che in camera di commercio e presso gli altri centri dell'ecosistema portano avanti percorsi formativi di consulenza e anche di rilascio voucher digitali per favorire la digitalizzazione dell'azienda naturalmente il punto impresa digitale si occupa sia di web marketing che l'impresa 4.0 e l'impresa 4.0 in questo caso che facciamo particolarmente riferimento perché è materia classica di brevettualità e quindi di proprietà industriale attraverso il punto impresa digitale abbiamo anche la possibilità di poter offrire al sistema alle aziende che si rivolgono all'ecosistema due utili strumenti che affedescono il mondo del trasferimento tecnologico portati da una convenzione tra il CNR nazionale e Union Camere il primo è una piattaforma che si chiama Promotiti Instrumenti attiva da circa due anni ci sono una serie di materie all'interno delle quali e settori tecnologici all'interno delle quali l'azienda ha la possibilità di poter attraverso questa piattaforma controllare tutte le brevettualità possibili alle quali attingere e fare riferimento e poter poi successivamente contattare naturalmente un dipartimento del CNR per approfondire la questione specularmente esiste un altro progetto sempre dovuto alla convenzione Union Camere CNR che si chiama MIR MIR è un acronimo Matching Impresa Ricerche e anche qui in modo forse più particolare l'impresa dopo aver attraverso il Digital Promoter del PID portato avanti un questionario di assessment perché è uno dei servizi che vengono rilasciati dal punto impresa digitale ha la possibilità di capire fino in fondo quello che è il proprio fabbisogno e di poterlo approfondire con un dipartimento del CNR attraverso una scheda che viene compilata e una serie di incontri che la Camera di Commercio e i professionisti del PID portano avanti impresa e specialista del CNR queste sono le aree tematiche di riferimento ma dobbiamo dire che sono in continuo allargamento perché il numero dei dipartimenti del CNR coinvolto in queste due iniziative è sempre più ampio in ultimo vorrei parlare di un altro aspetto che la Camera di Commercio di Firenze segue da tempo e che naturalmente all'interno del settore della proprietà industriale che è il fenomeno della contraffazione in particolare attraverso il comitato lotta alla contraffazione dove sono presenti tutti gli stakeholder del territorio e tutte le principali autorità viene svolta un'attività di continua sensibilizzazione per lo più rivolta alle scuole e ai cittadini e anche alle imprese su quelle che sono le tematiche della contraffazione in modo di sensibilizzare e anche riportare l'attenzione delle imprese sull'importanza del deposito e della tutela della proprietà intellettuale frutto della collaborazione tra Mise e comitato lotta alla contraffazione che è attivo a Firenze dal 2004 e ce ne sono altri tre in tutta Italia basati su altrettante Camere di Commercio abbiamo uno sportello nato da questa collaborazione da questa best practice del comitato che offre un servizio veramente innovativo a tutte le imprese del territorio grazie all'apporto dei professionisti del poligrafico e zecca dello Stato c'è la possibilità di fissare degli appuntamenti contattando numeri di telefono e mail segnalati in questa slide per poter avere informazioni e magari intraprendere anche dei percorsi sulle tecnologie innovative che vengono messe a disposizione per difendersi dalla contraffazione e anche per tracciare i vari prodotti da questo punto di vista la specializzazione particolare dell'istituto poligrafico e zeta dello Stato è soprattutto in ambito farmaceutico fashion e agroalimentare quindi invitiamo naturalmente tutte le imprese interessate a potersi rivolgere a questo sportello per avere delle informazioni specifiche su questi argomenti che sono oltretutto portano alla scoperta degli ultimi delle ultime novità in ambito di tracciabilità e di tutela della contraffazione siamo naturalmente a disposizione con l'ecosistema tutto e con i vari servizi messi a disposizione dalla Camera di Commercio e che spesso e che successivamente verranno oltretutto declinati il servizio nuove imprese e la ricerca di anteriorità in particolare all'interno del Patrib con l'ingegnero Tini dell'Università degli Studi e quando preghiamo quando lo ritenete opportuno naturalmente di contattarci perché ci sono tanti servizi che possono essere scoperti e possono essere attivati a favore di tutte le imprese del territorio grazie grazie mille Carlo per l'intervento molto chiaro ti aiuto praticamente il messaggio è questo ti aiuto a registrare il tuo marchio e poi contribuisco anche a difenderlo sostanzialmente c'è un percorso molto lineare continuerei su questa parte tecnica passando subito la parola all'Università di Firenze a Federico Rotini con il quale ovviamente la Camera di Commercio ha una convenzione per continuare sulla falsariga di quanto diceva Carlo sull'evoluzione di quello che diceva anche Carlo buongiorno a tutti dovreste riuscire a vedere la presentazione conferma benissimo bene allora buongiorno a tutti sono Federico Rotini professore associato in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Firenze e l'obiettivo di questa breve presentazione è mostrare una panoramica di quelli che sono i servizi resi dal Dipartimento nell'ambito del progetto Patrib che si svolge in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze con un particolare focus sulla ricerca di anteriorità anche andando sulla falsariga di quanto Carlo ci ha appena prodotto questa slide grossomodo richiama il processo diciamo che si svolge dalla fase di ricerca e sviluppo di una potenziale invenzione al momento in cui dopo aver intrapreso una iniziativa di tutela del trovato viene pubblicata la domanda di brevetto nell'ambito di questo percorso come si vede esiste una fase istruttoria in cui dopo aver generato un'idea che si ritiene tecnicamente valida occorre decidere la strategia di tutela più adatta anche in funzione di quello che sarà il modello di innovazione che si vorrà intraprendere in seguito in questa fase risulta importante raccogliere elementi utili a supportare la decisione di brevettare o meno l'idea e in particolare tra i vari aspetti coinvolti in questa decisione in questo processo decisionale vi è anche quello di capire la potenziale brevettabilità la ricerca di anteriorità supporta in effetti di questo compito andando a recuperare i contributi rilevanti che ci sono che sono presenti nelle basi di conoscenza disponibili dai quali poi l'inventore insieme alla consulente brevettuale potranno partire per verificare se e cosa brevettare questi risultati poi potranno essere impiegati anche nel processo di stesura della domanda di brevetto per ovviamente irrobustire il documento quindi irrobustire il risultato di questo processo di stesura bene in questo ambito il dipartimento offre dunque questo servizio di ricerca brevettuale che è organizzato a grandi linee come vi racconterò sinteticamente in questa slide la prima fase prevede è interlocutoria diciamo prevede un incontro con i soggetti interessati a brevettare che è finalizzato a comprendere il contesto in cui diciamo l'idea è nata il contenuto inventivo e gli ambiti industriali in cui essa potenzialmente si colloca successivamente gli inventori ci fanno pervenire una descrizione sintetica dell'idea comprendente i concetti che loro ritengono essere degni di tutela molto spesso questa fase comporta più iterazioni perché le informazioni sono inizialmente di solito abbastanza incomplete all'inizio e talvolta anche poco chiare tanto che il costringere gli inventori a ragionare su quello che scrivono spesso molto spesso li aiuta a chiarirsi le idee sulla parte inventiva di reale interesse segnalo che lo scambio di informazioni che avviene con noi dell'Università di Firenze quindi con noi offriamo questo servizio nell'ambito del PATLIB è tutelato dalla riservatezza attraverso gli accordi di servizio che abbiamo con Camera di Commercio dopodiché a partire dalle informazioni raccolte si imposta finalmente la ricerca brevettuale che di solito avviene per parole chiave e con l'integrazione anche di altri criteri se del caso tipo classi brevettuali e quant'altro talvolta facciamo anche delle ricerche un pochino più spinte non tanto basate sull'uso di parole chiave ma quanto sull'uso dei concetti e quindi si fanno ricerche che utilizzano analizzatori semantici in ogni caso si segue sempre un approccio strutturato e quindi sistematico per arrivare alla base documentale di interesse a questo scopo il sistema che l'Università di Firenze offre e mette a disposizione di questo servizio è Orbit che è sostanzialmente il portale di ricerca software sviluppato da QPAT ovviamente sempre nella versione più aggiornata siamo licenziatari anche la ricerca ovviamente di per sé è un processo che ha un carattere iterativo viene eseguita in due step modificando di volta in volta i criteri fin tanto che alla fine non si arriva a un set di documenti che rimane invariante da uno step a un altro a questo punto si emette il report che attenzione non fornisce un giudizio di brevettabilità perché non è obbito nostro offrire questo tipo di giudizio ma semplicemente offre una panoramica dello stato della tecnica che si ritiene essere più vicino all'idea degli inventori dopodiché sarà l'inventore insieme al consulente brevettuale che potrà andare a giudicare brevettabilità o meno dell'idea scusate qui ho saltato un passaggio ma niente diciamo si rifaceva allo step di emissione del regolo quest'ultimo che ho appena raccontato bene richiamando la slide che abbiamo proiettato all'inizio oltre al servizio di ricerca brevettuale il dipartimento offre anche altri servizi che impiegano le fonti brevettuali per altre finalità in particolare nella fase iniziale di ricerca e sviluppo di un progetto di un'idea di un prodotto i brevetti possono essere utilizzati anche per costruire costruire lo stato dell'arte brevettuale in un determinato settore analizzando chi sono i competitor mappare l'andamento dell'attività inventiva in un determinato ambito nonché l'evoluzione tempo riferita delle problematiche tecniche affrontate nei brevetti in modo da avere l'idea di dove si è concentrata negli anni l'attività inventiva ed eventualmente attuare per esempio azioni di forecasting tecnologico oppure identificare flussi di trasferimento di conoscenze da altri settori o verso altri settori ad esempio con l'analisi delle citazioni bene direi che oltre a questo altri servizi sono quelli riferiti alla ricerca brevettuale finalizzata a supportare i processi creativi di progettazione di nuovi prodotti o servizi utilizzando ovviamente la conoscenza tecnica disponibile nei database brevettuali oppure semplicemente analizzare il contenuto inventivo di un brevetto per varie finalità ad esempio per capire quanto e se si sovrappone con brevetti di altri inventori e quindi poi per eventualmente valutare anche una freedom to operate inoltre possiamo svolgere attività di monitoraggio in un determinato contesto per verificare come si muove l'attività inventiva nel tempo questa come si sviluppa più che come si muove questo è un servizio particolarmente utile una volta pubblicata la domanda la domanda di brevetto perché noi sappiamo che esiste un tempo in cui questa domanda non è pubblica e quindi potrebbe essere interessante andare a verificare cosa fanno i nostri competitor in questo in quel periodo infine secondo l'antico proverbio cinese dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno insegna di appescare e lo nutrirai per tutta la vita forniamo come diceva anche Carlo Badiali la possibilità di apprendere l'impiego di questi strumenti questi strumenti di ricerca per poter svolgere poi alcune delle attività ricamate in queste slide ovviamente in proprio bene direi che io ho concluso e niente ringrazio tutti voi per l'attenzione e per l'invito a questo a questo webinar sicuramente interessante e utile direi grazie a tutti grazie mille Federico e ricordo a tutti i partecipanti che la registrazione degli interventi e le presentazioni saranno disponibili a breve nei prossimi giorni per chi anche volesse poi rivedere ripassare insomma e approfondire la conoscenza delle materie e degli argomenti che stiamo trattando oggi continuerei con gli interventi tecnici lasciando la parola a Anna Maria Vitale di FOMO Firenze che si occupa del servizio nuove imprese bene grazie Luca allora condivido lo schermo bene ok buongiorno a tutti grazie al servizio nuove imprese mi occupo di aspiranti imprenditori aspiranti start up da diversi anni il servizio nuove imprese è un servizio gratuito della Camera di Commercio di Firenze gestito dalla sua azienda speciale Promo Firenze che si occupa di servizi e attività per tutte le imprese del territorio fiorentino oggi faccio diciamo il punto su quello che è l'esperienza del servizio nuove imprese con le start up innovative e quindi le attività svolte si tratta di informare e accompagnare per l'avvio di start up innovative cioè la start up innovativa è una società di capitale che grazie a una normativa deve rispettando i requisiti previsti da questa normativa si iscrive nella sezione speciale start up e quindi può beneficiare di tutta una serie di agevolazioni e di opportunità quindi che cosa consiste questo servizio innanzitutto informa chi l'aspirante start up è per la costituzione di una start up innovativa cioè chi ha un'idea di un progetto innovativo quindi deve ancora iniziare quindi sarà la sua prima diciamo società quindi chiede informazioni su quelli che sono i requisiti per capire un po' come muoversi oppure perché ha un progetto innovativo quindi in qualche modo ne parliamo insieme e verifichiamo se ci sono i punti i requisiti richiesti dalla normativa e quindi la possibilità di iscriversi nella sezione speciale informa anche chi l'imprenditore quindi un'impresa che già esiste che ha un nuovo progetto innovativo e che quindi deve valutare per esempio se aprire una nuova start up una nuova società di capitali oppure se ne ha i requisiti iscrivere la sua società di capitale nella sezione speciale start up oppure diventare diciamo una PMI innovativa possibile dal 2015 questo perché rispettare dando certi requisiti abbiamo anche un'ulteriore sezione speciale del registro imprese che si chiama appunto PMI una sezione speciale del registro imprese rivolta alle PMI innovative che permette di beneficiare di tutta una serie di agevolazioni ho detto che informa ma accompagna rispetto al normale diciamo servizio di primo orientamento informazione rivolta a tutte le imprese in questo caso per le start up innovative c'è una procedura anche procedura c'è anche un discorso di accompagnamento tutto questo serve per facilitare l'iscrizione della start up nella sezione speciale quindi inizia con un primo colloquio che in genere è richiesto ovviamente dall'aspirante start up dove mi parla del suo progetto dove io interagisco con lui e cerco di spiegare la normativa e quindi trovare i punti di contatto tra il progetto e quello che prevede la normativa spesso viene chiesto diciamo una normativa una circolare del ministero lo chiama presentation deck dove l'aspirante start up deve definire bene qual è l'attività perché innovativa e l'alto contenuto tecnologico mettendo in evidenza uno dei tre indicatori previsti sempre dalla normativa questo perché si definisce il progetto si individuano i requisiti richiesti dalla normativa dopodiché si diciamo si conclude con tutta un'ulteriore serie di informazioni relative alla documentazione da presentare in camera di commercio per l'iscrizione nella sezione speciale start up quindi in questo caso abbiamo un'attività più articolata e complessa sia per la normativa di riferimento sia per l'aspirante start up sia per il consulente esterno della futura start up perché comporta un costante una costante e continua assistenza diciamo che la mia esperienza quindi l'esperienza del servizio nuove imprese quindi inizia dall'esistenza di questa normativa che risale a fine 2012 dai compiti del registro imprese perché deve fare delle verifiche preventive in quanto valutare se si hanno tutti i requisiti richiesti dalla normativa ma anche verifiche dinamiche così come diciamo descrive una circolare del ministero perché le start up innovative per ogni anno quindi per massimo cinque devono dichiarare dimostrare di averne requisiti per rimanere iscritti nella sezione speciale start up il ruolo del servizio nuove imprese quindi è sia diciamo cercare di facilitare l'iscrizione della società in questa sezione speciale sia di diciamo coinvolgimento di tutti gli altri servizi sia della camera di commercio che dell'azienda speciale quindi in primis il mio rapporto continuo con il registro imprese con l'ufficio Marche Brevetti con il punto impresa digitale con i colleghi della finanza agevolata e dell'internazionalizzazione ma questa esperienza nasce quindi dagli aspiranti imprenditori quindi inizio con l'aspirante imprenditore che arriva allo sportello nuove imprese però può essere uno studente che ha partecipato all'impresa campus dell'università di Firenze può essere una persona che ha partecipato un aspirante imprenditore a una call delle murate e che quindi una volta definito delineato fatto un percorso quindi decide di scriverla e quindi io faccio un po' da diciamo da facilitatore tutto può iniziare anche da commercialisti consulenti esterni o notai perché magari mi contattano per capire come iscrivere quali sono i requisiti per iscrivere la start up nella famosa sezione speciale però dopo quindi inizio con il consulente ma diciamo esperienza vuole che poi cerco di incontrare consulenti aspiranti start up in un secondo colloquio perché il tutto si definisce prima e meglio secondo me inoltre diciamo questa esperienza continua perché perché c'è sempre più un utilizzo diffuso delle nuove tecnologie e una vivace ricerca dei bisogni non soddisfatti e direi che negli ultimi due sono sempre di più e nuovi e in più grazie agli attori del territorio fiorentino quindi comune università incubatori acceleratori e sintetizzando l'ecosistema fiorentino dell'innovazione che diciamo è sempre più coordinato e sinergico seguo una slide dove in qualche modo io metto al centro l'aspirante imprenditore cosa che in genere diciamo fa sempre il servizio nuove imprese e quindi abbiamo l'aspirante imprenditore che può partire dall'ufficio nuove imprese della camera di commercio e chiedere informazioni su come fare da un aspirante start up perché sa di una colle delle murate che quindi magari partecipa alla vince inizia un percorso e poi decide di iscriversi lo stesso vale per l'università come gli altri attori abbiamo anche lo sportello virtuale di cui parlava all'inizio il collega quindi questo ecosistema presente è funzionante diciamo sul territorio fiorentino continuo e concludo con diciamo dei numeri per quanto riguarda le start up innovative iscritte al 21 febbraio 2022 nella sezione speciale start up insisto con questa sezione perché tutte le imprese si iscrivano al registro imprese iscriversi nella sezione speciale start up o nella sezione speciale PMI innovative comporta una serie di benefici banalmente il primo per le start up innovative è non pagare il diritto camerale i diritti di segreteria e i bolli quindi risparmia se l'iscrizione la fa contestuale all'inizio dell'attività circa 500 euro per iniziare quindi a febbraio 2022 abbiamo a livello nazionale 14.201 imprese e start up iscritte nella sezione speciale queste sono le prime 10 regioni per distribuzione di start up io ho estrapolato soltanto alcune slide dal lavoro fatto dai colleghi della statistica però vi posso poi mandare anche tutto il lavoro fatto dai colleghi quindi vedete la Toscana è all'ottavo posto queste sono le start up innovative in Toscana rispetto allo scorso anno si registrano i tassi di crescita in tutto il territorio escludendo però diciamo grosseto prevalentemente le start up operano nel terzario avanzato concentrantosi soprattutto sui servizi di supporto alle imprese in particolare sui servizi di informazione e comunicazione seguono i dati un po' del servizio nuove imprese dove mettono in evidenza soprattutto il periodo gennaio 10 marzo 2022 le consulenze realizzate diciamo dal servizio nuove imprese sono state complessivamente 98 però di cui 41 solo per potenziali start up di queste potenziali start up queste 41 consulenze fanno riferimento a 22 potenziali start up e posso anche dire che di queste almeno ho avuto notizia nei giorni scorsi due presto andranno dal notario si costituiranno e si iscriveranno nella sezione speciale start up io ho finito so di essere stata molto veloce è un po' il mio difetto comunque se non sono stata chiata avete delle domande da fare di te pure grazie mille Anna Maria complimenti vorrei porre l'attenzione su due keywords che caratterizzano il tuo servizio e che hai ben citato prima è un servizio che informa e accompagna l'informazione la si dà un po' per scontato io credo che il valore aggiunto sia proprio questo accompagnamento questo prendersi cura delle imprese per farle nascere crescere e sviluppare non è un caso secondo me che anche i numeri che hai citato dimossino come il numero di consulenze che eroghi sia in costante crescita di anno in anno ma ecco a questo punto vorrei introdurre il caso per proprio dare riprova che i servizi messi a disposizione dall'ecosistema ferentino dell'innovazione hanno poi degli effetti sul campo e consentono la nascita e lo sviluppo di società importanti come Chinoa lascerei dunque la parola alla Pocecconi che è il fondatore di Chinoa dopo l'Apocecconi interverrà Tommaso Rossi che è il Chief Technology Officer sempre della stessa società grazie grazie mille grazie a tutti intanto per le belle parole che fanno sempre piacere e insomma danno anche entusiasmo a continuare questa avventura ringrazio in modo particolare il Comune di Firenze e tutto l'ecosistema dell'innovazione perché abbiamo sentito la vicinanza che abbiamo sentito questo accompagnamento e anche un'attenzione particolare perché la nostra start-up è nata a Firenze è nata formalmente nel 2016 e abbiamo sin da subito iniziato a sviluppare prodotti tecnologici faccio questa breve premessa anche per raccontare l'iter di un'azienda che ha preso ha diciamo ha 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 appreso durante il percorso proprio la consapevolezza di poter innovare non è scontato le idee ce le abbiamo ce le abbiamo in tanti renderle azienda e renderle sostenibili sul mercato è una sfida molto difficile se poi pensiamo il periodo il periodo che stiamo vivendo nel 2016 avevamo iniziato questo questo percorso insieme a dei colleghi definisco visionari come me ma a Firenze si potrebbe dire un po' bischeri no perché occuparsi di innovazione è vero che insomma è la chiave di lettura di tanti di tanti percorsi però è anche vero che che insomma è terreno fertile ma è anche un terreno molto insidioso i dati che venivano citati si vede proprio un iter di crescita esponenziale del tema dell'innovazione però anche delle difficoltà iniziali nel poter crescere noi l'abbiamo sentite ma siamo stati garibaldini nel continuare racconto questo perché Keymap è il frutto di un percorso che era iniziato in un altro settore Keymap è un'applicazione che si occupa della mobilità dei disabili oggi nel 2016 avevamo cominciato a sviluppare un prototipo per il monitoraggio e la tracciabilità diciamo delle performance sportive di un team avevamo pensato a un team di calcio ma poteva essere per qualunque tipologia di sport e di squadra avevamo iniziato e qui ricordo ricordo anche con piacere perché poi è stato motivo di confronto e scontro con Tommaso che poi la persona che realmente doveva trasmettere doveva realizzare le idee bizzarre che venivano fuori dal gruppo e avevamo sviluppato proprio un prototipo IoT un dispositivo noi lo chiamavamo bussolotto perché effettivamente era un bussolotto di plastica dove dentro c'era una serie di sensori che avevamo avevamo diciamo integrato per poter monitorare in tempo reale appunto i movimenti di un team mi ricordo ancora anche questo giusto per raccontare degli aneddoti ma poi fanno parte delle storie imprenditoriali i test che facemmo allo stadio di Reggello dove facevamo proprio i primi test noi tutta la squadra che stava lavorando a questo prototipo per vedere poi i risultati in tempo reale direttamente nel tablet di come funzionava questo bussolotto bene questa era la prima idea come è nato il prototipo di quella che poi è diventata TeamUp perché una volta sviluppato questo bussolotto uno dei nostri soci Armando che è costretto a muoversi in sedia a rotelle vede questo nostro bussolotto e dice ma lo sapete che a me questo dispositivo servirebbe per potermi muovere con più conoscenza con più informazione all'interno della città dove vivo ma anche nelle città dove mi sposto per turismo ci aveva fatto ci aveva raccontato Armando dell'innovazione che stavano oramai consolidandosi all'interno della mobilità delle persone che si muovono in carrozzina con dei dispositivi sempre più all'avanguardia che rendevano più diciamo rendevano possibile gli spostamenti di persone con disabilità all'interno cioè con possibilità di turismo cosa che forse qualche anno fa era veramente un po' più visionario insomma questo incrocio di prodotto prototipo e nuova esigenza fa nascere Keymap abbiamo iniziato quindi nel 2017 a fare sul serio con la creazione di un dispositivo pensato non più per la mobilità e il monitoraggio delle performance sportive ma per la mobilità e il tracciamento degli itinerari per persone disabili dal bussolotto quindi dispositivino IoT che inizialmente avevamo attaccato alle carrozzine abbiamo trasferito grazie anche a tutta una serie di premi che abbiamo ricevuto a partire dal 2017 a spostare tutto dentro un'applicazione nasce così la prima versione scaricabile nel 2018 di Keymap e i primi test le prime sperimentazioni con l'applicazione già sviluppata e già scaricabile l'abbiamo fatta in proprio a Firenze l'abbiamo fatta in collaborazione con il comune di Firenze e in modo particolare con l'assessore a del re e abbiamo avuto la possibilità attraverso poi i sistemi delle murate i sistemi della camera di commercio poter crescere e far conoscere a partire da Firenze la nostra tecnologia ed è qui che poi abbiamo partecipato a dei progetti europei e abbiamo lavorato anche in tante altre municipalità quindi per me è importante raccontare per noi è importante raccontare questa storia perché è una storia ferentina a tutti gli effetti insomma è una storia nata in piazza Oberdan nella nostra vecchia sede sviluppata alle murate e quindi perfezionata alle murate Idea Park e poi portata e questo è il motivo d'orgoglio nostro fuori Italia siamo riusciti a partecipare a dei bandi che ci hanno visto protagonisti a Londra a Porto in Spagna e in tantissime altre realtà questa è la storia e la storia noi avevamo nel 2010 non mi ricordo neanche quando perché l'iter non è stato rapidissimo ma aveva depositato il brevetto e improvvisamente dopo due anni di covid dopo due anni che non vi nascondo come per tantissime imprese è stato difficile anche per noi abbiamo ci è arrivata questa lettera da parte del Ministero dello Sviluppo Economico che ci dice che c'è stato riconosciuto il brevetto e noi devo essere sincero ci abbiamo messo un po' perché era la lettera del 31 gennaio e l'abbiamo tenuta lì l'abbiamo tenuta un attimo in un cassetto perché era come la conclusione di un percorso non la conclusione era un punto di un percorso che pensavamo di anche questo lo dico un po' con rammarico a livello di gruppo pensavamo un pochino di dover abbandonare perché mobilità dei disabili turismo accessibile il nostro anno migliore qui mi fa un po' sorridere la frase che ha detto prima il segretario generale della Camera di Commercio perché il nostro anno migliore è stato il terzo anno poi il quarto è arrivato il covid quindi è il quarto che ci ha fregato in qualche modo e la pandemia la difficoltà di spostamento di tutti insomma ci stavamo guardando in faccia io, Tommaso, Armando e tanti altri colleghi e invece abbiamo rilanciato l'anno scorso aggiornando tutta l'applicazione quindi oggi arriviamo la lettera è arrivata in un momento in cui avevamo stavamo completando gli aggiornamenti dell'app e soprattutto stavamo guardandoci in faccia per dire dove andiamo ora che facciamo ci diamo un altro scatto ci diamo ancora forza per poter continuare questo progetto e in questi casi penso sia il destino insomma la risposta è stata automatica ed è arrivata in quella lettera quindi sono contento di essere qui con voi con tutti gli attori che poi di innovazione parlano tutti i giorni e sono contento di raccontare un pezzo di una piccola storia niente di più una piccola storia di trasformazione digitale siamo partiti lavorando mettendoci più che lavorando anche lì usiamo un'altra parola ci siamo voluti testare cioè la nostra idea era ma siamo bravi a fare innovazione davvero perché tutti noi venivamo da percorsi di vita di lavoro di studi totalmente diversi io da un'esperienza imprenditoriale precedente che mi porto ancora dietro però il gruppo si è creato proprio su queste sperimentazioni ed ora a distanza di un po' di anni siamo contenti della strada della strada fatta e sono contento tra l'altro di condividere questo percorso con oggi c'è Tommaso ma con tutti gli altri colleghi e sono anche felice di lasciare la palla a lui nel descrivere la tecnologia perché a parte per una questione di meriti sarebbe totalmente motivato che io descrivesse una cosa che nel complesso e nella sua quotidianità non ho seguito quindi la tecnologia affinché arrivi un brevetto vuol dire c'è un'invenzione dietro c'è un lavoro fatto di sperimentazione di test ma anche di intuizione tecnologica che ha avuto Tommaso insieme al lavoro di squadra e anche questo è un'altra parola per me molto importante però sono contento che sia lui a raccontare che cos'è Keymap oggi e quali sono le potenzialità che noi vediamo e che effettivamente questo brevetto non può forse che darci ancora carica e fiducia in una serie di iniziative che possiamo fornire e possiamo produrre non solo per Firenze ma sempre con un occhio di riguardo per la nostra città che poi sul turismo è sicuramente un punto di riferimento internazionale ma anche in altri contesti nazionali e internazionali quindi insomma sono felice di passare la palla virtualmente al mio collega e amico Tommaso Rossi grazie Lapo grazie Lapo prego Tommaso grazie allora io invece mi occupo come ha accennato Lapo in particolar modo di tutto ciò che riguarda la tecnologia dietro Keymap e prodotti tecnologici di Kinoa in generale ho avuto la fortuna di essere stato il primo effettivamente a mettere le mani su l'idea e l'intuizione del nostro gruppo di Keymap e quindi di trasporre questa tecnologia inizialmente basata su un dispositivo indossabile un wearable all'interno di un'app e di spostare completamente anche l'ambito di applicazione per sintetizzare fin da subito quello che è è stata l'intenzione anche di Keymap è stata quella di applicare effettivamente qualcosa un'idea innovativa un metodo innovativo all'ambito che è quello della disabilità in una maniera quanto più accessibile possibile quindi l'accessibilità presa dietro ad ogni aspetto inizio vi condivido qualche slide anche per vedere di cosa si tratta ok penso lo vediate quindi il primo passo è stato quello di creare un'app anche perché anche come primo prima intenzione di muovere tutto in un ambito di accessibilità e questo significa che accessibilità significa facilità anche nell'accedere a determinate informazioni e logicamente sfruttare un dispositivo che già tutti abbiamo in qualche modo in tasca e ci portiamo dietro di giorno in giorno è qualcosa che permette un più facile accesso alle informazioni rispetto ad esempio l'acquisto di un dispositivo esterno quindi Keymap è stato nel momento in cui l'abbiamo lanciato il primo navigatore per chi si muove in carrozzina quindi un navigatore come potrebbe essere Google Maps Waze quindi app similari che si usano per muoversi a piedi o in automobile Keymap ha un focus specifico sull'accessibilità quindi è un navigatore dove l'esperienza è simile a quella di altre app solamente che il percorso che viene offerto tramite Keymap per muoversi all'interno delle mappe che sono generate o all'interno di punti per raggiungere i punti di interesse in particolare tutti questi tutti questi percorsi tutti questi punti di interesse sono raggiungibili attraverso percorsi accessibili quindi non solamente si tiene conto di tempo e distanza ma si tiene conto anche di un terzo parametro un terzo fattore che poi è l'oggetto del nostro del nostro brevetto che è quello dell'accessibilità il tema dell'accessibilità è affrontato sotto un punto di vista tecnologico e di dati come attraverso una logica di crowd mapping quindi l'idea è quella di raccogliere direttamente dagli utenti queste informazioni scorro ecco la mission in generale della dell'app è quella di permettere dare forza a chi ne ha più bisogno rilevando attraverso questa app e questo sistema in automatico determinate informazioni che hanno a che fare con l'accessibilità questo viene rilevato dagli utenti stessi e questo è quello che si definisce crowd mapping allora questa è la mission è un bello obiettivo ma ovviamente andava trovata una soluzione poi tecnica che permettesse attraverso una semplice app come ne esistono tante altre in altri ambiti di offrire però un'informazione in più che è quella dell'accessibilità il primo il primo pensiero che abbiamo avuto tecnico per raggiungere questo questo obiettivo è stato quello di capire dove dove avere dove dove ottenere questi dati sull'accessibilità in parte questi dati sull'accessibilità sono disponibili attraverso varie banche dati locali o anche su più larga scala attraverso open data quindi dati disponibili pubblicamente che sono resi disponibili dalle città o da privati sull'accessibilità appunto di strade e luoghi database che però appunto molte volte sono locali quindi informazioni locali e ogni informazione locale poi tende a volte a essere anche avere un proprio formato quindi a essere magari non facilmente integrabile con dati ad esempio provenienti da un'altra città quindi la prima sfida era quella di avere questi dati raggiungere questi dati in modo da creare un navigatore che ne tenesse in qualche modo conto seconda sfida era ottenuti questi dati inserirli all'interno di un motore tecnologico un qualcosa che permettesse poi di interpretarli prima di tutto e offrire all'utente finale poi un qualcosa di molto semplice quindi un navigatore dove si sa il punto di partenza si sa il punto di destinazione e viene offerto semplicemente le indicazioni testuali vocali e grafiche per raggiungere quel luogo la sfida quindi era duplice e duplice è stato infatti il percorso di strutturazione del brevetto per raggiungere questo obiettivo tecnico e pratico effettivamente abbiamo brevettato un motore di intelligenza artificiale quindi un software una serie di algoritmi che permettono di effettuare spostamenti intelligenti questi algoritmi tengono conto delle due sfide quindi da una parte c'è una rilevazione dei dati e dall'altra c'è un offrire una navigazione accessibile quindi intelligente attraverso l'app come funziona lo spiego brevemente e in maniera molto semplice all'interno dei nostri smartphone non necessariamente di ultima generazione da smartphone di 7 8 anni fa ad oggi sono presenti una serie di sensori all'interno una serie di piccoli chip e moduli che collaborano a svolgere determinate funzioni negli smartphone uno di questi sensori è il GPS che permette di localizzare dove ci troviamo quindi quando quando si si usa il navigatore quando si vuole localizzare una foto c'è un sensore che permette di fare questo cioè di localizzare la posizione del dispositivo un altro sensore molto utile che abbiamo utilizzato è l'accelerometro che ci permette di raggiungere una serie di rilevazioni che vengono effettuate automaticamente durante la navigazione quindi l'utente si muove lungo il percorso che viene offerto da Keymap non deve fare niente ma in automatico attraverso questo sensore questo accelerometro viene rilevata un'informazione molto importante che viene utilizzata poi da questa intelligenza artificiale l'accelerometro è come fosse una specie di sismografo quindi permette di rilevare le vibrazioni a cui è sottoposto lo smartphone quindi pensate lo smartphone posizionato sulla carrozzina attraverso un supporto anche nella tasca dell'utente è capace di rilevare le vibrazioni a cui l'utente stesso e la carrozzina sono sottoposti che è un indice della qualità del suolo che sta percorrendo cosa significa poter rilevare ad esempio se un suolo è liscio e nuovo oppure se magari ha qualche crepa o qualche buca sul lungo insomma sulla sua superficie o magari se è presente qualche piccolo gradino che la carrozzina riesce a percorrere ma viene comunque rilevata perché sottopone a un determinato stress di vibrazioni la carrozzina e quindi l'utente quindi una serie di rilevazioni vengono effettuate in automatico a partire dai sensori degli smartphone e sono tante le rilevazioni che vengono fatte fino a arrivare al dettaglio di comprendere la qualità del suolo che viene percorso quindi se è un terreno liscio o per capirsi se ad esempio viene attraversata una piazza fatta pavimentata con San Pietrini che quindi sono tanto difficili da magari percorrere con bici da strada e lo stesso avviene con una carrozzina è un percorso che ha un qualche impatto sull'accessibilità quindi una confortevolezza maggiore o minore questi dati vengono uniti poi a delle segnalazioni che vengono effettuate direttamente dagli utenti quindi l'utente può segnalare se c'è ad esempio una barriera architettonica come una panchina in mezzo al marciapiede oppure un marciapiede troppo stretto un marciapiede troppo inclinato o ancora un cantiere stradale che interessa anche il marciapiede un percorso pedonale che però non prevede il passaggio in maniera facile di una carrozzina tutti questi dati vanno a alimentare un grande database di informazioni positive e ovviamente di criticità sull'accessibilità delle strade in una determinata città vengono interpretate da questi algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning degli algoritmi cognitivi degli algoritmi che in maniera automatica riescono ad auto apprendere da questi dati e a semplificare questi dati in un semplice indice di accessibilità che si traduce poi in un'informazione grafica un marciapiede immaginatevelo verde per dire che è completamente accessibile è confortevole alla percorrenza con la carrozzina giallo può significare che magari è accessibile ma magari non ha una grande confortevolezza o comunque ci può essere qualche piccolo ostacoletto lungo il percorso rosso può voler dire che rosso vuol dire che magari può essere percorso però con un accompagnatore è meglio perché può essere presente qualche ostacolo per cui l'aiuto di un accompagnatore può essere prezioso questi quindi immaginatevi che poi una strada una volta mappata durante il semplice uso dell'app da parte degli utenti una città viene popolata di questi marciapiedi verdi, gialli e rossi e in automatico poi il navigatore utilizza questi stessi dati per offrire un percorso che si basa quindi voglio raggiungere un determinato punto un luogo specifico dalla mia posizione vengono valutati tutti i possibili itinerari questo in tempo reale e si sceglie ovviamente il percorso più possibile verde eventualmente si segnala la presenza di qualche potenziale ostacolo lungo il percorso e la cosa interessante è che sono gli stessi utenti a contribuire ogni volta che usano l'app per loro stessa comodità però possono mandare delle segnalazioni e quindi arricchire questo patrimonio di dati che serviranno all'utente dopo che utilizzerà l'app e percorrerà lo stesso gli stessi strati di strada quindi è un sistema che si alimenta con dati già presenti nelle banche di open data quindi dati disponibili a livello locale globale in maniera pubblica ma non solo gli utenti stessi possono contribuire quindi è un sistema che cresce e l'intelligenza artificiale e quindi questo software che abbiamo brevettato permette alla fine di dar forza a questa community quindi dar voce prima di tutto a questa community dargli forza e permettere di collaborare insieme niente di diciamo l'ostacolo tecnico della realizzazione dell'immaginario come questo sistema potesse funzionare è stato grande ma effettivamente l'intuizione ce l'hanno data agli stessi utenti perché diciamo coinvolgendoli nell'immaginare come cosa avrebbe potuto funzionare per loro ci siamo resi conto che nelle associazioni che dove disabili tra persone che si conoscono e così via e veniva effettivamente un passaggio di informazioni molto verbale quindi la tecnologia in questo senso automatizza un processo lo rende più semplice e lo rende in qualche modo su larga scala perché il turista cinese americano quello che può essere che viene magari in Italia può segnalare qualcosa che può essere utile alla persona locale di qua come la persona locale magari di Firenze può segnalare qualcosa che al turista può essere utile turismo oggi abbiamo ampliato ancora di più queste funzionalità creando una serie di mappe disponibili direttamente dentro all'app costruite da noi dalla redazione dai nostri partner dalla community stessa una produzione crescente oggi intanto abbiamo inserito in questa nuova versione che come diceva l'app abbiamo rilasciato da poche settimane mesi insomma abbiamo intanto inserito le mappe di Firenze ma continua il lavoro nell'integrazione di tutte le altre mappe che abbiamo già a disposizione e le nuove mappe che stanno venendo fuori con con questa tecnologia anche perché a oggi abbiamo integrato oltre ai percorsi anche un dettaglio maggiore che è quello dei punti di interesse quindi sono visitabili e visionabili all'interno dell'app tutti i punti di interesse di queste mappe che abbiamo creato quindi ci sono mappe tematiche come vedete questa sui scenacoli a Firenze oppure le mappe alcune mappe turistiche al stampo culturale o comunque i temi affrontati sono diversi e per ciascun luogo è possibile visionare un dettaglio su l'accessibilità quindi le mappe sono disponibili sia in versione grafica poi che che in maniera testuale e la cosa interessante ovviamente è che quando apro un determinato punto di interesse come questo che vedete ho la possibilità poi di cliccare su un pulsante e attraverso la nostra tecnologia ottenere delle indicazioni accessibili dal luogo in cui mi trovo a quel punto di interesse tutto questo attraverso quello che vi ho raccontato quindi la tecnologia che abbiamo creato di mappatura di navigazione e quindi tutti i dati che abbiamo disponibili a questo punto su Firenze in una grandissima quantità e poi ovviamente anche con in tutte le altre città in cui abbiamo svolto delle attività insieme a la nostra community e quindi agli utenti che in tutti i progetti ci accompagnano appunto nelle varie realtà italiane non solo la cosa interessante di aver brevettato una tecnologia come questa che ha dovuto diciamo sorpassare tantissimi ostacoli tecnici come ad esempio il fatto che vi porto questo esempio quello che è accessibile per una carrozzina a spinta quindi una carrozzina spinta manualmente dall'utente da una persona disabile in carrozzina quello che è accessibile per lui non necessariamente è accessibile ad esempio per chi ha uno scooter elettrico che apparentemente potrebbe solo offrire scooter elettrici sto parlando sempre di ausilio alla mobilità per i disabili non necessariamente lo scooter elettrico è più permette di avere un'accessibilità maggiore nelle città nelle strade perché ad esempio lo scooter elettrico è molto più pesante quindi risente molto di più di un terreno sconnesso e anche diciamo più delle volte più largo quindi se un marciapiede è stretto può avere più difficoltà d'altra parte invece una carrozzina spinta ha più difficoltà nel muoversi in terreni in percorsi eventualmente inclinati quindi con una buona pendenza perché è faticoso sia da parte propria che dell'accompagnatore spingere la carrozzina invece quelle carrozzine che hanno un ruotino elettrico davanti hanno più facilità a muoversi in terreni inclinati quindi tutti questi dati poi sono stati parametrizzati in base all'ausilio che l'utente utilizza per la propria mobilità quindi gli ostacoli sono stati veramente tanti però le opportunità sono altrettante ad esempio uno degli obiettivi con la nuova versione 2.0 è quella di estendere l'utilizzo dell'app anche a più tipi di disabilità quindi diciamo l'informazione raccolta ad esempio dall'utente con la sedia a rotelle quindi di un terreno particolarmente liscio e quindi confortevole al percorrimento può essere qualcosa di molto utile ad esempio a chi soffre di cecità quindi alle disabilità legate alla visione quindi ci può essere collaborazione fra vari tipi di disabilità ma non solo una volta brevettata una tecnologia così come la nostra addirittura ci possono essere risvolti ancora interessanti anche in altri ambiti pensate ad esempio come in alcuni stati degli Stati Uniti stanno prendendo piede i dispositivi di consegna per gli acquisti online robotici quindi ci sono questi robottini su ruote che girano sui marciapiedi delle città per consegnare a domicilio quello che viene comprato online sono delle sperimentazioni da parte dei più grandi insomma delle più grandi plattaforme di acquisto online questi dati sono estremamente preziosi anche per sistemi di navigazione autonoma come questi piccoli robottini che si muovono sui marciapiedi perché il marciapiede sconnesso il marciapiede largo costretto con ostacoli lungo il percorso e così via sono informazioni che sono utili anche per questi dispositivi visionari ma che fanno già parte della quotidianità di qualcuno sotto forma di sperimentazione quindi team up ve l'ho raccontato è il primo navigatore per chi si muove in carrozzina e vi lascio con questa riflessione che è di Armando che ha nominato prima l'Apple un po' l'ideatore all'interno del gruppo di tutto questo di questo progetto che maggiore autonomia negli spostamenti è a tutti gli effetti un aumento dell'indipendenza in termini di socialità partecipazione al lavoro tutto questo rientra nell'obiettivo dell'inclusione sociale almeno nel nostro nella nostra visione in città che siano sempre più accessibili per tutti quindi l'accesso all'informazione riguardanti appunto l'accessibilità significa veramente tanto per tutti per le persone che soffrono di disabilità ma non solo grazie grazie davvero Tommaso è stata una presentazione davvero un plauso insomma da parte di tutti noi e essere consapevoli che i servizi dell'ecosistema fiorentino sono stati utili allo sviluppo di un progetto come Keymap ci rende sinceramente anche orgogliosi per cui davvero grazie per la vostra testimonianza grazie a tutti coloro che hanno partecipato come dicevamo prima le presentazioni che abbiamo presentato stamani sono disponibili saranno disponibili presto online e niente davvero grazie veramente per la vostra testimonianza e bocca al lupo e niente grazie complimenti complimenti e bravissimi grazie mille grazie mille bravissimi complimenti a presto a presto arrivederci a tutti arrivederci e grazie mille